Ciao medici! Ragazzi bentornati nel canale e nel Pupi Studio. Allora ragazzi, volevo fare una premessa davvero importante. Questo canale parla di cose testate, intendo dire testate e ultratestate durante i miei cammini, ok? E' molto importante che capite questo, che questo non è un video per fare un video su YouTube e non è un video per dire qualcosa sentita da altri o ripetuta da altri. Queste sono esperienze reali di cammino. Questa è, diciamo, il mio aiuto, il mio regalo a tutti i pellegrini. Quindi ragazzi, volevo fare di questa super premessa perché è molto importante che capiate questo. Allora, oggi parliamo del metodo più utilizzato, reale, testato, vero, per curare le vesciche durante un cammino. Questo è il metodo dei pellegrini. Dopo la sigla. Bentornati ragazzi. Allora, oggi scopriremo il metodo pellegrino dell'ago e filo. L'unico metodo pellegrino testato, ultratestato, ma non perché gli altri non li abbia provati. Anzi, ragazzi, devo essere molto sincero. Io prima di mettermi ago e filo in una vescica, davvero, le ho veramente provate tutte. Perché non mi sarei mai immaginato di dovermi mettere un ago e filo nella vescica. È una cosa folle, secondo me, e quindi non era l'ultima cosa che avrei pensato di fare. Ve lo dico proprio molto sinceramente. Però con il tempo e con l'esperienza e con averle provate tutte, perché soprattutto nel mio cammino io ho davvero avuto vesciche ogni giorno. Tantissime. Io non riuscivo più a camminare. Il mio viaggio era finito. Fino a che i miei amici spagnoli mi hanno praticamente bloccato e legato una sedia, tra virgolette. Mi hanno preso i piedi e mi hanno cucito le vesciche. Quindici minuti dopo io riuscivo a camminare. Perché il metodo di ago e filo fa questo. Prima senti dolore, non riesci più a camminare, ti è impossibile camminare, le provi tutte. Dopo che usi ago e filo, ragazzi, il dolore passa all'istante. Ok? Da quel momento voi siete liberi di poter camminare. Quindi, questo è un metodo davvero, davvero testato, provato, visto, rivisto su centinaia di pellegrini. Se volete aiutare una persona, ditegli che deve fare questo se vuole continuare il suo viaggio. Ok? È molto importante. Di metodi ce ne sono miliardi. Ognuno ha il suo, le cose strane, ho visto. Ragazzi, però non funziona niente. Non funziona nulla. Lo avete provato? Prima di consigliare, avete provato? Questo è importante saperlo. Quindi, questo consiglio è ultra testato. Ok? Andiamo a vedere quindi questo metodo di ago e filo. Ragazzi, questo non è un metodo che vi può dire un dottore. Perché un dottore sicuramente vi direbbe. Credo che dovrà tornare a casa. Oppure. Beh, credo che può aspettare tre giorni. E poi può ricominciare il suo cammino. È certo che noi abbiamo sette mesi da spendere così. Quanto è importante questo viaggio per te? Quanto? Questa è la domanda importante che ci dobbiamo fare. Perché se questo viaggio è il nostro viaggio della vita, è il nostro viaggio importantissimo, crediamo che dobbiamo arrivare a Santiago de Compostela, allora ragazzi dobbiamo continuare il viaggio. E i metodi da dottori da dottori non sono questi. Ok? Quindi, affidatevi davvero a chi ha fatto il cammino davvero come pellegrino. Come pellegrino. Guarda, ve lo scrivo qui, gigantesco. Come pellegrino. Il cammino va fatto da pellegrini. E quindi non dobbiamo avere paura di soffrire, non dobbiamo avere paura di nulla, di nulla. Perché il cammino è questo. Certo che la sofferenza non va cercata. Però, dobbiamo essere pronti, mentalmente, psicologicamente, ad affrontare le nostre paure. Ok? E questo dell'ago e filo era una mia paura. Io, vi ripeto, non mi sarei mai immaginato di mettermi un ago e filo in una vescica. Mai, mai. Però ragazzi, io non potevo più andare avanti. Quindi, l'ho dovuto fare. E poi, è stato il mio metodo che ho utilizzato ogni volta che ho avuto una vescica. Oh, allora ragazzi, vediamo un po' i metodi. Perché non sempre va bene ago e filo. Ci sono punti e punti. Metodi e metodi. Soprattutto bisogna capire come vengono queste vesciche. Allora, le vesciche vengono per il peso. Quindi da pressione. Ok? In un lungo viaggio, con un lungo, un grande peso, che non è il vostro, è probabile che vengono da pressione. Oppure, vengono da sfregamento. Quindi, qualsiasi parte che sfrega dentro la scarpa, potrebbe creare la vescica. A quel punto, capire se è da sfregamento, oppure da pressione, è molto importante. Perché? Perché possiamo, su quelle da sfregamento, utilizzare un compid. Che sono questi cerotti che riescono a coprire la vescica, assorbono il liquido in eccesso, si tengono lì per più giorni, quindi si stacca da solo, non staccate lo vuoi a mano. E sono ottimi per quelle da sfregamento. Le tipiche da sfregamento che potremmo avere è quella dietro il tallone. Questo, cosa fa questo cerotto? Riesce a coprire quella parte ed a proteggerci dallo sfregamento. Quindi, a quel punto, ago e filo è sconsigliato. Ma per tutte quelle altre vesciche, che ho detto che sono dovute dal peso, oppure alla grande quantità d'umidità del piede, quindi fa tanto caldo, la scarpa è in Gore-Tex e magari sudate molto nel piede, i calzetti sono sbagliati, ci sono varie motivazioni per cui possono venire le vesciche. Ma quando ci vengono, dobbiamo cercare di essere pronti a, tra virgolette, operarci. Oggi vi farò vedere tutto il materiale necessario, quelle certe poche cose, però seguite passo passo, perché è molto importante non farci male con lago e filo, e non creare infezioni inutili. La prima cosa, e penso che sia la cosa più importante da utilizzare nel lago e filo, è il betadine. Cos'è il betadine? Il betadine è questo, diciamo, liquido che riesce a uccidere tutti i germi, distrugge tutto, ammazza tutto, e in questo modo noi sappiamo che tutto quello che va a toccare con il betadine è protetto. Guardate qual è la versione che ho io. Questo è un consiglio grandissimo, esiste il betadine liquido, ma quando voi fate queste cose, le farete sul letto, o da qualche parte scomodi, o dovunque sia, in una sedia di un bar, in una zona che sarà comunque scomoda. Utilizzare il betadine liquido potreste fare un disastro. Quindi, ottimo è il betadine in gel, anche perché è molto piccolo, molto leggero, e ricordate ragazzi, dobbiamo stare molto attenti ai pesi. Quindi, betadine in gel. Poi cosa ci serve? Ci servirà quindi un fazzoletto, qualcosa di carta, potete prendere la carta igienica, quello che avete, per riuscire a non sporcarvi anche col betadine. Ci serviranno degli aghetti, comprate una confezione, vedendo questi non pesano, ed in questo modo li potrete riutilizzare o darli a chi ne ha bisogno, senza che gli date il vostro, perché ho visto cose assurde ragazzi, passarsi l'ago, ma su, per favore, ognuno ha il suo ago, lo utilizzate una volta e basta, e lo buttate. Poi, abbiamo bisogno del filo. Ovviamente il filo, altra cosa, non portatevi una rocchetta di filo, non avete bisogno di tutto questo, portatevi un po' di filo, ecco. E poi di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno delle forbicette, per tagliare il filo, ma potete anche utilizzare un cortellino, quello che avete. Altra cosa sono i compid. Io comunque li consiglio, perché, come ho detto, se avete queste vesciche sul tallone, e ripeto, solo sul tallone, potrebbe farvi da scudo col vostro sfregamento. E quindi, una volta che lo mettete, avete fatto, avete risolto il vostro problema, perché se è quello il problema da sfregamento, questa è la cosa migliore. Però, come utilizzare il compid? Perché c'è anche come utilizzarlo. Se voi avete una vescica grande sul tallone, che succede? La cosa migliore è quella di bucarla con l'aghetto, in più parti, e far uscire il liquido. Questo compid non ve lo dice. Dice di applicare il cerotto sopra la vescica, e aspettare che questo faccia effetto. Il compid fa effetto dopo un giorno, o anche due. Quindi, che cosa succede? Succede che nel frattempo voi continuate a sentire dolore. Allora, fate uscire il liquido, e ovviamente senza aprire la vescica. Ho visto persone che aprono la vescica con le forbici. Ragazzi, questo non lo fate. Soprattutto se sei da sfregamento, che cosa succede? Che va a sfregare lì sopra, vi apre, praticamente camminando vi si apre la pelle, e avete la pelle riva. Vi farà malissimo. Ok? Quindi, apriamo e chiudiamo parentesi. Fate uscire con un aghetto, il liquido, piano piano, quando si è sgonfiata la vescica, applicate il compid. Quello continuerà a succhiare, ma voi avete, diciamo, passato la fase del dolore. Ok? E vi proteggerà, comunque, dallo spregamento. Ricordate che il compid va via solo, non staccatelo voi, e soprattutto non mettetelo per le altre vesciche. Perché che succede nelle altre vesciche? Quando voi lo applicate sotto i piedi, quando avete la vescica sotto i piedi, questo compid con la pressione si apre, quindi fa uscire questo liquido che ha dentro, questo gel, e si attacca con i calzetti. Praticamente, alla fine della tappa, dopo 20-30 km, voi dovete buttare i calzetti, perché è impossibile da scollarlo. Rimarranno sempre dei pezzi di compid sul vostro calzetto. Quindi, ragazzi, non fatelo sotto il piede. Invece, sotto il piede, andiamo ad utilizzare il metodo dell'ago e filo. Sotto il piede, o sulla punta delle dita, vediamo. Io voglio farvi vedere una foto del mio piede buono, che è quello peggiore, non ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere una foto del mio piede buono, del mio primo cammino. Oh, questa è il mio piede. Dopo la cucitura. Lo so, sembro Frankenstein, ma io vi assicuro che questo metodo mi ha salvato la vita. Tra virgoletti mi ha salvato la vita. Mi ha salvato il cammino. In quel momento io dovevo tornare a casa. Io non ero più in grado di camminare. Avevo davvero 30 vesciche per ogni piede. Qualcosa di mostruoso, ragazzi, mostruoso. Quindi, aiutiamoci con ago e filo. Il sistema di ago e filo è molto semplice. Come si fa? Su un fazzoletto mettere il gel del betadine. Far passare, e far passare bene intendo, tutto l'ago e tutto il filo. È importante che seguite questo passaggio. Tutto l'ago e tutto il filo. Ok? Con il betadine. Poi che fate? Fate passare da parte a parte, negli angoli più larghi, della vostra vescica, di questo filo. Ok? Quindi, da una parte all'altra. Semplicemente. Non sentirete dolore, perché la pelle che si è alzata è una pelle morta. Quindi, voi non sentite dolore, per questo. Il dolore, o il pizzicore, che potreste sentire, è il betadine che entra dentro la vescica. Ok? Quindi è molto importante fare entrare il betadine. Questo andrà a pulire la vescica. Cosa fate una volta che le due parti, avete le due parti di filo? Andate a fare un nodino sopra. Un doppio nodino sopra. Ok, ragazzi? Non vi preoccupate, non lo sentirete, questo doppio nodino. Poi che fate? Se la vescica è grande, lo ripetete anche dal lato opposto. Quindi create una croce sopra la vescica. Anche questo lo chiudete con un doppio nodino. Quindi avrete un doppio nodo sopra la vostra vescica. Cosa fa questo metodo? Tiene sempre aperta, aperte, questi fori. Il cotone del vostro filo assorbirà e creerà comunque un'apertura costante per far uscire il liquido che si rigenererà sempre. Allora ragazzi, ho sentito un altro metodo che io ho testato durante la plata perché pensavo che questo potesse essere davvero una cosa una genialata. Cosa ho fatto? Ho preso la punta, quindi l'ago di una siringa e sulla vescica l'ho bucata e ho fatto uscire da lì il liquido. Ho detto, cavolo è fatta, faccio uscire il liquido e poi la vescica è fatta. Che problema c'è? Qual è il problema di questo? Che cinque minuti dopo i fori erano chiusi e mezz'ora dopo la vescica aveva riprodotto il liquido ed ero appunto a capo, come si dice. Ero come prima. Quindi non mi ha aiutato per niente. Ragazzi, le cose vanno testate, vanno testate. Io non so più come dirlo. Vanno testate. E questo metodo, nonostante poi mi sono anche incarognito, dico, ma cavolo, ma può essere... Ho cominciato a bucare tutta la vescica e vedere se usciva finalmente. Niente, niente, niente. L'ago e filo permette che i fori rimangano aperti. Questo è davvero un metodo pellegrino. Poi ragazzi, quello che dovete fare con questa vescica è di lasciarla stare. Mettete il calzetto, tranquillamente, fate prendere aria ai piedi. Uno dei consigli più grandi, in assoluto, che vi posso dare è ogni due ore, tre ore di cammino, ogni ora, dipende da quanto ne avete bisogno. Fermatevi, fermatevi ai bar, fermatevi a contemplare l'universo, fermatevi, non vi corre dietro nessuno, non è una gara, non è un... non è una gara, ragazzi, non è una gara. Fermatevi. Finalmente, nella vostra vita, potete dire mi fermo quando mi pare. ho il tempo da poter dedicare a me stesso, quindi pensaci a te stesso. Fermati, togliti le scarpe, quando sei nei bar non ti preoccupare, sono abituati, togliti le scarpe e fai prendere aria ai piedi. Togliti anche i calzetti, fai prendere aria ai piedi. Ci sono persone che cambiano durante il cammino i calzetti o che utilizzano metodi della doppia calza, di... Ragazzi, l'aria, l'aria, non c'è nulla di meglio. Fate prendere aria ai piedi e poi, quando vi met... Ho visto anche persone mettersi creme, gel, eccetera. Ognuno... Io non discuto su questo, ognuno avrà il suo metodo, io non... Però, ragazzi, metterci della vaselina sopra il piede significa non far respirare più il piede. Ok? Ok, va bene, per le vesciche da sfregamento sarete un po' protetti, va bene, però, ragazzi, l'aria, il piede vuole l'aria. Fermatevi, fermatevi, non mettete cose strane per poi non fermare e andare come dei treni, ma dove andate? Ragazzi, allora, il cammino di Santiago è questo. Il cammino di Santiago è anche prendersi delle pause, è stare più tranquilli, avere un altro tempo. ho fatto il video sul tempo, andatevelo a vedere, perché nel tempo, nel cammino è differente, si percepisce in una maniera differente, quindi prendetevi questo tempo. Avete il tempo di poter fare tutto, non preoccupatevi, anche alle 6 di sera ci sono pellegrini che camminano, non vi preoccupate, ok? Fermatevi, fermatevi e fate prendere l'aria ai piedi. Questa è la cosa migliore per qualsiasi tipo di vescica. Ci siamo, capite? Poi abbiamo fatto anche due video che parlano delle scarpe, di quale scelta utilizzare, eccetera. Quindi diciamo che questo sarà un video anche complementare a questo. La scarpa va presa larga, ragazzi, alta, in Gore-Tex va bene tutto, ma larga. In questo modo l'aria entra, il vostro piede, non chiudete troppo la scarpa, lasciate respirare il piede, fate sì che l'aria entri dentro. Questi sono i miei consigli, consigli ultratestati. Non vi dico consigli che ho sentito da qualcun altro, consigli ultratestati, ok? Quindi, il metodo del lago e filo. Ora, avete questa grande conoscenza che si tramanda da pellegrino a pellegrino del lago e filo. Sfruttatela bene. Ciao ragazzi, buon cammino. Sfruttatela bene. Sfruttatela bene. Sfruttatela bene. Grazie a tutti. Sfruttatela bene.